Ehi Morty, vedi quel piccolo puntino azzurro? Cos'è secondo te? Quella è la Terra, un pianeta molto speciale. Proprio lì, miliardi di anni fa, è nata la vita. Sai Rick, la storia della Terra non è sempre stata felice. L'equilibrio creato sino al corso dei secoli è stato sconvolto dalla supremazia della specie umana. L'uomo ha costruito città immense, togliendo spazio agli alberi e alla fauna. Ha fatto estinguere un numero agghiacciante di specie, ha inquinato i mari e il cielo e ha sfruttato le risorse del pianeta fino al punto di non ritorno. Allora la temperatura media si è alzata e i ghiacciai si sono sciolti, sono scoppiati centi catastrofici, le acque e l'aria hanno perso la loro originaria limpidezza. Inizialmente gli esseri umani non sono intervenuti per risolvere il problema dal loro creato. Alla fine, però, tutti i popoli si sono uniti per salvare il pianeta, piantando nuovi alberi per le foreste, eliminando materiali inquinanti come la plastica, raccogliendo e riciclando correttamente rifiuti e, soprattutto, utilizzando solo energie rinnovabili. Ci hanno impiegato decenni, ma alla fine hanno salvato la loro casa. Quindi ricorda sempre, Rick, che prevenire è meglio che curare. Grazie Morty, lo terrò a mente. Salve al pianeta, scegli Green Energy, l'azienda numero uno in Italia nella distribuzione di energia solo da fonti rinnovabili, sconti imperdibili fino a fine mese. Green Energy, don't make the difference, be the difference.